Scusa Ma anche le frasi del tuo copione sono così Così come? Eh, guarda anche qua Non ci vedo niente di strano Ma è sbagliata la concordanza con il congiuntivo Che ingenua Ma non è sbagliata Ma come no? No, si tratta evidentemente di drammaturgia contemporanea Eh, ma certo Cioè sarebbe intenzionale? E poi sono io l'attore commerciale ignorante che arriva dalla televisione Ma c'è chiaramente dietro un intento artistico, dai! Ah, ok E quale sarebbe? Ma che ne so Scioccare, compondere, stupire Le solite cose del contemporaneo, non so io A me sembra scritto da un adolescente sgrammaticato Da un bambino di otto anni Sì, no, ecco, non osavo dire tanto Però Mimmo Non possiamo andare al festival di drammaturgia contemporanea Con questa roba è orrenda E poi chi è questo Rainer Banni? A parte che non sa neanche usare il congiuntivo Ovvio, ha otto anni Chi? Rainer Banni, l'autore del testo Ha otto anni? Sì, proprio così, sì Ma chi è? Chi è? Chi è? È il mio nipote No, scusami Mimmo Tu stai dicendo Che tuo nipote di otto anni È l'autore di questo testo? Geniale! Geniale, ma geniale cosa? No, con tutto il rispetto per tuo nipote Ma non possiamo andare in scena con un tema di terza elementare No, io l'ho trovato piuttosto evocativo Ma che cosa stai dicendo? Sì, la parte degli nipopatami blu era notevole Signori la mezza Grazie Oh, guarda Io trovo che abbia proprio molto talento È veramente Geniale! Scusate Scusate Qualcuno è al corrente di questa cosa Non so, tipo la CIA Dai, voglio dire è legale E sembra Geniale! Va bene, va bene Geniale, geniale! Ah sì, sì Creiamo il caso! Un geniale bambino di otto anni Plus dotato Che incalpa la scena Traumaturgica nazionale Sarà asfalta! Vabbè, vabbè Senti Accademia della Crusca Piuttosto non è qualcosa da dirci Della replica di ieri sera? Ah sì Ho scelto di corso Vedete tutto bene Mettetevi comodi Tu hai fatto scritto Tu eri inascoltabile Una replica di merda Mi volevo suicidare Ah, la rima è evoluta? Non c'era nessuna rima Mi sembrava Hashtag I consigli di registrare No, scusa Io ho saputo tre giorni fa Che avrei dovuto sostituire Virginia Nella parte della baglia Ho avuto pochissimo tempo Ho imparato il personaggio Ho studiato tutte le battute A memoria e i movimenti Ho imparato a memoria e il video Ci ho messo tre notti per farlo Ecco, c'è una cosa che non ho capito Del tuo personaggio Perché a un certo punto dello spettacolo Diventa goppo E boh, io ho studiato il video E dunque? E dunque Virginia Nel video della precedente edizione Faceva così Oh, Tebaldo è morto E Romeo è stato bandito Oh E poi si piegava di scatto Con dolore Come se fosse invecchiata Tutto ad un colpo A causa delle terribili notizie prese Oh no No, Gaia La sera che abbiamo fatto Le riprese video Virginia ha avuto una colica Per mani in scena Oh Io pensavo che facesse parte Della caratterizzazione metaforica Del personaggio Sarebbe stato geniale Ma non erate Solo una colica rinale Questa era una rima Quasi Eccomi Scusate Io stavo rispondendo A un'intervista telefonica Agatha, io non ti sento Scusa Stavo rispondendo A un'intervista Ho sentito Ora Beh Quindi Non ti sento in scena In che senso? Nel senso che quando reciti in scena La tua Giulietta non parla Piccola Signore in quarto Grazie Piccola Addio replica No Mio Dio Mio Dio Mio Dio Io voglio morire No Non ho ancora raggiunto la tua ora Hai 5 replica da contratto Poi potrei fare quello che vuole Voglio piangere Devo sfogarmi Ma no Deve semplicemente alzare la voce Ma io so usare la voce Tu sei un ingrato Io so tanto l'anima Per questo spettacolo Ma non devi dare l'anima Devi dare più volume Allora non sono capace Ma sì che sei capace No non lo so fare Non lo faccio Io voglio andare via 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 Ecco e ora ricomincia Agatha fammi capire Dove vorresti andare A casa a casa Tanto non so fare niente Agatha Adesso io ti giuro Che se tu vai via Io rilascio un'intervista al giornale Dove dichiaro a tutta la scena Internazionale e teatrale Che tu sei una cagna Capricciosa e pretenziosa E che l'unico motivo Per cui tu sei qui E che tuo padre Ha un famoso Estimato regista E tua madre Ma nota cantante lirica Per cui il tuo unico punto di forza È il mercoglione che porti E che se non fosse Per questo motivo Nessun regista Si sognerebbe mai Di sopportare La tua canineria I tuoi capricci E visime Per cui adesso tu Entrai in scena E reciterai Per quello che ti consentono Le tue capacità Ovviamente E quando dico Che voglio più volume Non intendo Quello della cotonatura Di tuoi capelli Ma volume Vocale E questo è tutto Ci direi Allora E questo è quello Che avrei voluto dire O che si sarebbe Dovuto dire E invece Andò così Agatha Ti prego Tu sei in assoluto La più Meravigliosa Delicata E sensibile Interprete Di questa Giulietta Senza dubbio Della tua unicità Geniale Come puoi essere Tanto crudele Da privarci Della tua Sublime incarnazione Di questo personaggio Eterno Reso da te Ancora più eterno Che inginocchiamoci tutti E vabbè E magari preghiamo È giusto Preghiamo Ma no Voi non mi odiate Ma no Signori 5 minuti Grazie Allora Se non c'è altro Io inizio ad andare Vai vai Mimmo A me invece Non devi dire niente Immagino Mi piacerà del ballo Sei un tronco Fai pena What Fammela vedere Dai Ma ti faccio vedere cosa Ora fammi vedere La scelta del balzo Dai Allora bagliamo Comazzo Dai vieni Ci facciamo un bel balletto Per il Mimmo Così è contento Allora io con Agatha Faccio così Un due tre Ma si parte con l'altro piede No ma si parte con l'altro piede Ma tu devi partire con l'altro piede Dai Vabbè Ma vabbè Ma vabbè Però se sei facile Dai Allora Ma se tu mi sembriamo Ti chiusè Dai Allora scusa Geniale Mantieni questa inadeguatezza sempre Ma scusa cosa vuol dire Ma che ne so Che ne so Geniale comunque Io Maestro Si Vengo Vabbè Io comincio ad andare Sempre che tu non mi abbia rotto una caviglia Oh che pesante E te non vieni? Eh sì Mi concentro un attimo Scusa Non ho capito cosa c'è da ridere Ma no Ma concentrati Chi è di cena? Grazie 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 Grazie